Termo casa, idee e soluzioni per il riscaldamento e la climatizzazione presenta l'alba di una nuova era solare l'innovativo Inertial Flux, il pannello solare di facile installazione che non teme temperature al di sotto dello zero permette il riscaldamento dell'acqua calda anche nelle ore notturne vieni a scoprire risparmio qualità rendimento gli incentivi del conto termico fino a 1700 euro in due anni Termo casa di Nicola Lauria, in via nazionale a Montesano Scalo, telefono 0975 863725